Ma noi c'è la seconda che facciamo così, direi, perché Napoli comunque è una squadra che per rubare palle bisogna correre molto, quindi la fatica poi si fa sentire. La squadra ha tenuto bene per 50-60 minuti, poi ha avuto quei 10 minuti di blackout secco, poi ha ripreso un attimino in mano, anche se è 2-0, poi è chiaro, ti ha sbilanciato un po'. Però la differenza secondo me è proprio strutturale che noi in primo tempo abbiamo fatto la palla a gollo, in secondo tempo l'hanno fatta. Questo è il senso della struttura della partita. Chiaramente noi dobbiamo migliorare in quello, le grandi squadre hanno anche i giocatori di qualità che possono comunque saltare la partita. Io non giudico tanto il secondo gol su un'infortunio personale che non capita, giudico più il primo evitabile che il secondo. È un paradosso ma è così, perché difficilmente Wittmer la prossima volta sbaglia una cosa del genere, invece noi non dobbiamo sbagliare, un gol preso su una situazione di gioco che avevamo studiato, sapevamo che facevano, poi ci va di mezzo anche alla qualità dell'avversario, perché poi non è che... Però insomma la squadra perlomeno la partita è stata tenuta viva fino in fondo, ha lottato sbagliando tante cose, facendo cose buonine. Però la concentrazione deve essere assoluta per tutti i 90-100 minuti, non per 45-50. Io chiamo coraggio di quello che si fa sul campo, perché in partite si possono vincere e perdere, poi il coraggio di fare un'azione, di portare la palla, di fare un lancio. Non ho paura, insomma, non riuscire a detenere questo. La squadra è sulla strada giusta, secondo me. Mi spiace oggi per il pubblico, anche per noi stessi, perché magari a un punto si corroborava e c'era ancora più forza. Ma non è il punto con Napoli che ti dà il tuo futuro, il futuro della prestazione. Per noi, per esempio, abbiamo Bologna, abbiamo Cagliari, abbiamo squadre, probabilmente, forti tutti, però penso che lì possiamo anche fare qualcosa di più di quello che abbiamo fatto oggi. Anche perché si parlava della qualità loro nel primo gol, ci mancherebbe l'infortunio di Widmer, purtroppo capitato. Per il secondo, l'Udinese che tra l'altro aveva studiato, letto la partita molto bene, perché Napoli davvero al primo tempo non ha fatto un tiro in potenza. Ma capita, quando Napoli trova un momento in cui si è un po' meno attento, diciamo, nel sviluppo, questi qui fanno male. Insomma, non è pensabile, probabilmente, anche avere una concentrazione ottimale, più di 90, qualcosa, magari concedi. E quando concedi questo dovrebbe sbagliare, invece hanno fatto gol e tu hai proprio sofferto un po' di più. Guardiamo al futuro, alle prossime partite, prima di Natale, andiamo troppo lontano, pensiamo al Cagliari, che è una squadra che in casa sa sempre dire la sua, la classifica che ha, praticamente l'ha fatta tutta lì. Sì, ma il campionato è molto lungo, molto particolare. Importante è che la squadra non si abbia la sensazione che è passiva. La squadra deve essere sempre, comunque, positiva, deve essere sempre una che cerca una soluzione. migliorabile, secondo me, perché, da quello che vedo io, spendiamo troppo a livello tattico, muovendoci in modo non ancora corretto. E quindi spendiamo molta, facciamo molta fatica, tante volte, non avendo un posizionamento inconsone a quello che facciamo noi. Oggi mi è piaciuto Matos, un giocatore che l'ho visto molto bene in allenamento, per cui, in realtà, questa opportunità, lui si è giocata bene. L'altro deve fare quel ruolo benissimo, perché ha la struttura fisica, la qualità fisica, anche il passo. deve migliorare, deve migliorare, deve migliorare, può rendermos avanti per una strada già tracciata, che però deve avere le componenti giuste per poter attuare. Ottimissima, Flash. Sensazione, però, di squadra passiva? Assolutamente no. E il pubblico è stato il primo a capirlo, perché ha comunque tributato un grande applauso. No, no, no. Il pubblico ormai è con noi, il pubblico sa che in realtà si danno il massimo. Poi saranno anche scomposti, saranno sbagliato anche i passaggi. Però noi abbiamo conquistato il pubblico, abbiamo conquistato le energie psicologiche importanti per andare avanti, per continuare sul nostro lavoro, che riteniamo quello giusto. Abbiamo tanti giovani che devono maturare, perché è chiaro che Forfanale è giovane, che Marto sia giovane, ma abbiamo, no, Vaghi che già sta a partire che gioca. Io penso che noi dobbiamo avere la forza e la qualità per pensare in positivo e pensare che la strada che abbiamo tracciato è quella giusta, che ci porterà a fare il nostro campionato, che è quello di costruire per poter poi andare avanti e nel futuro avere più partenze, meno con apprensione, diciamo così. È quello che facciamo per cercare la ricerca di strutturare a livello tattico una squadra che abbia questa qualità.